ciao a tutti bentornati su da game 87 con questo nuovo video di forono raga siamo in dominio sto utilizzando il priore nero e sono in team con rise to the game e kyle warden premetto raga che il priore non l'ho portato tantissimo non l'ho utilizzato tantissimo infatti ce l'ho soltanto la notorietà 4 ma devo dire che mi sta piacendo e non poco intanto qua siamo in mezzo al bordello una battaglia di gruppo abbiamo contro un tiandi un monk e il gladiatore che mi sta facendo nero insieme a questo monk intanto raga io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale raga tanto per voi è gratis e non vi costa assolutamente nulla ma per me significa veramente tanto in più raga in descrizione ai video trovate il link di accesso al server di discord dove potete giocare con me e tutti gli altri ragazzi facciamo attenzione sono morto attenzione in b calcio dello shaolin da dietro ovviamente oh grazie rice che mi ha salvato la vita intanto guardate il gladiatore alle prese con kyle guardate kyle che lo sta devastando ragazzi attenzione mi ha fregato mi ha parato l'imbloccabile ok bash esternal vai via me ne vado io adesso che siamo in troppi vado in a ok no il monk guardate rice da dietro intanto qua ne approfitto per curarmi attenzione il flip devastante del priore ragazzi boh spezzaguardi imbloccabile mio perfetto vediamo se glielo fa di nuovo garantisci melo boh attenzione gladiatore è messo male perché qua sono con rice con due priori guardate il flip deve fare attenzione perché se c'è un esternal il priore ti prende infatti guarda è scoppiato attenzione ragazzi la situazione è affollata c'è un po troppa gente qui mi hanno pagato guardate questo tiandi che non siamo messi bene con la vita raga è arrivato anche il monk nel frattempo ok no oh mi ha preso perché non mi ha ribattuto ok no va ti ho chiuso nell'angolo ok pesante cosa fa sta mirando un altro bash attenzione monk si avvicina a me tanto rice ne approfitto ah rice è morto no no aiuto uh è andato no cosa fa sto monk no leggero bash boh morto vai via attenzione sono con kyle leggero lascia andare ah ok me l'ha parato scrivo spezzaguardia ok dammi il cambio che sono off stamina out of stamina eh ok pesante lascia andare madonna l'ho preso in pieno ma basta questi spezzaguardia ma guardalo ma guardalo 4 ne ha fatti di fila la tappi schivata va ok attenzione al monk ah scusa kyle ti sei messo di spalle in mezzo no il muro non ci credo no kyle porco 2 attenzione grazie della rianimazione ok no no bash boh lascia andare ma lo para sempre sto 50 50 ok ne approfitto per curarmi un po tacco zona intanto qua lascia andare l'imbloccabile no mi ha inforcato mannaggia sono morto attenzione imbilti andy contro lo shugoki ok ma guardate quanti attacchi in schivata che fa ma è assurdo no ok boom è entrato questo imbloccabile attenzione ok spezzaguardia no intanto sono stato doppiato ok grazie per il parry gratuito uuuh flip devastante attenzione boom pesante che è entrato non ci credo uuuh flip di grazie il priori è devastante ragazzi attenzione imbico l'eylander questo priori non ci casca intanto diamo un manforte un attimo al rise pesante me lo son preso nei denti tre pesanti nei denti mi son preso sono quasi morto attenzione spezzaguardia ribattuto dopo 10 secondi grande gioco grande calcio boom pesante leggero tacco in schivata no mamma mia si è preso il pesante in faccia due pesanti in faccia distrutto intanto attenzione intanto guardate lì gente che vola nel flip di quel priori mamma mia no è andato in vendetta attenzione guardate che continua a menare a destra a sinistra grande rise che me l'ha garantito boom occhio che c'è il berserker che sta puntando rise ok grande l'ha preso perfetto uh il priore no pesante ok attacco in schivata uh grande flip di recovery mi ha preso la grande mi allontano un attimo raga che se non muoio attenzione due priori comunque raga insieme come dicevano la partita precedente sono assurdi intanto in questa partita sono ancora con rise e kyle guardate pesante boom attacco in schivata nooo ah mi ha preso quel flip grazie della rianimazione intanto qua ok boom calcio ok no lo sapevo e lo sapevo vai giù da solo oh non ho capito perchè non è entrato vabbè calcio boom leggero grande flip lo sapevo che entrava ma l'ho dovuta rischiare lo stesso tanto qua è messo male a questo priore raga siamo tutti qui ok calcio nooo di nuove vendetta ma perchè mamma mia guardate che casino che c'è lì tanto è arrivato anche l'altro priore raga vediamo se vediamo se oh attacco in schivata ahhh l'ho rischiata l'ho rischiata va bene lo stesso attenzione grande parry del berserker ok uh bravo si ma interrompilo mannaggia te ok no ok cambio ok occhio attacco in schivata si lo sapevo boom attenzione in b di nuovo bordello casino il priore boom afferrato pesante boom leggero attenzione basta con sti flip mannaggia te che vuoi fare sempre sti flip prenditi sto pesante grande rise che tempismo assurdo sto ragazzo fortissimo boom nooo sono caduto attenzione baffiamo tutti danni no non te lo faccio fare l'attacco in schivata a destra a sinistra è a caso a volte ci vuole e a volte no grande si sempre leggeri ma non ti conviene farli sempre attenzione sto pirata che mi ha preso alla sprovvista mannaggia lui mannaggia ma basta costi 50 50 prenditi sto bash niente non ci casca no ma che faccio ma perché non l'ho punito sul leggero mannaggia ma che faccio ma fagli andare boom non sono capace a usarlo il jj va bene lo stesso ma dove è spuntato quel gladiatore lì ahhh attenzione Shohei no è arrivato il pirata di nuovo ma basta mamma mia perché l'ha fatto all'indietro sto pesante devo provare a lasciarli andare sti 50 50 attenzione sono tutti qua tanto facciamo perri a destra e a sinistra vediamo se mi entra la vendetta grazie a dio perfetto no ok me l'ha parato immaginavo ragazzi ma date una mano sono tutti qua sono stato inforcato Shohei guardate che casino attacchi schivata lo sapevo non l'ho fermato mamma mia basta questi attacchi schivata prenditi anche tu questo attenzione bash guardate che casino non si capisce niente stiamo facendo delle partite ma belle carine divertenti ma veramente non si capisce nulla attenzione guardate il gladiatore intanto attenzione no boom come ha fatto a prendermi col puio che era 10 metri indietro ma basta ma non ha capito questo io lo faccio andare boom e curati guardate Shohei che arriva di corsa ovviamente c'è anche il pirata no mi ha preso non ci credo raga raga mi stanno devastando non so se ci siete datemi una mano no attenzione no 55 ma mi ha preso lo stesso ma che faccio ma che faccio ma non ci credo ok ma si ma attenzione diamo una mano qua sul ponte ci piace combattere in questi posti così a caso guardate con tutto il posto che ci può essere per combattere qua combattiamo mamma mia attenzione ma basta questi attacchi schivata boom mamma mia che succede lì in mezzo che succede boom diamo un po' di attacchi pesanti a destra a sinistra guardate guardate che è arrivato il guadattore di nuovo tanto kyle che mi sta dando una mano col medjai guardate ma dove sto sbattendo sta cacchio di alabarda cacchio si chiama dappertutto dappertutto basta guardate quanti sono ah mi ha preso attenzione allo yorm leggero ma dovevo lasciarli andare questi pesanti non ci credo attenzione leggero leggero dallo yorm di qua non ti faccio passare ah mi ha preso quello spezzaguardia ovviamente no guardate l'attacco in schivata lentissimo del gj ok attacco a zona boh lo lascia andare grande intanto ragazzi vi è piaciuto il video lasciate un like un commento che a me fa sempre piacere io vi ringrazio di cuore per aver seguito e noi ci vediamo nel mio prossimo video tempo che ci facciamo questo bot e vinciamo questa partita boom attenzione guardate il bot pure tappe schivata ma muori con delicatezza senza fretta ma vai bella raga alla prossima vittoria 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 vittoria